Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa 39esima puntata del podcast di Marcosbox. Iniziamo la settimana parlando di Samsung. Lo scorso anno Samsung aveva annunciato il rilascio di Linux on Dex, un'applicazione che consentiva su alcuni modelli selezionati smartphone e tablet Samsung, tutti di fascia top, di poter eseguire una sessione di Ubuntu sul proprio device. Nello specifico era possibile eseguire una sessione di Ubuntu 16.04. Il funzionamento era semplice, si collegava tramite un app a base o tramite cavo a monitor e tastiera e mouse ed era possibile quindi tramite questa applicazione avviare questa sessione di Ubuntu e quindi beneficiare di un desktop sfruttando l'hardware del proprio tablet o smartphone. Questo progetto era piaciuto a molti, molti sviluppatori si erano appassionati, ma anche molti lettori che sognavano una convergenza e sognavano una collaborazione spinta tra Canonical e Samsung per portare avanti questo progetto. Bene, oggi dopo solo 11 mesi dal rilascio della versione beta di questo applicativo, Samsung ha inviato una mail agli sviluppatori nella quale annuncia che Samsung on-dex non verrà aggiornato e preso compatibile con Android 10. Significa appunto che praticamente in questi giorni, perché è notizia di questi giorni, con l'aggiornamento di Android 10 beta, questa funzione trasmetterà di essere funzionante e compatibile con tutti quanti i device che supportavano Linux on-dex e viene confermato appunto da Samsung che con la versione stabile questo ammetterà di essere compatibile, quindi non sarà nemmeno possibile fare un rollback alla versione precedente di Android 9 per poter continuare ad utilizzare questa funzionalità, quindi sparirà completamente. Mi ha fatto notare però un grittore che sul canale di tweet Linux on-dex è stato postato un tweet che dice sappiamo che molte persone si lamentano per annuncio nell'annuncio di questo progetto, però non vi preoccupate che a breve vi daremo delle buone notizie tra pochi giorni. Mentre sto registrando la puntata del giorno 23, non ci sono stati ancora aggiornamenti in merito, vi farò sapere comunque nelle prossime settimane se ci sarà qualche novità. Passiamo adesso alle distribuzioni Linux e parliamo del rilascio di PopOS 19.10. Che cos'è PopOS? È una derivata di Ubuntu realizzata da System76 che viene utilizzata sui computer prodotti da System76 ma è che è possibile scaricare e installare liberamente, quindi se volete potete farlo. Ha anche un installer grafico personalizzato, molto carino, si concentra su due edizioni, quella con i driver Nvidia, quelli già presenti, vabbè, adesso anche l'ultimo Ubuntu lo fanno, e quella generica per chi ha un Intel o AMD. Fa alcune modifiche. Allora, innanzitutto questa edizione 19.10 di PopOS è basata su Ubuntu 19.10, quindi si va a prendere GNOME 3.34 in eredità, introduce due nuovi temi, cioè una variante nuova dei temi di PopOS basata anche questi su Aduaita nella variante chiara e scura. È possibile selezionare questi temi all'interno delle impostazioni di sistema senza dover ricorrere a GNOME Tweak o quant'altro. sono stati poi aggiornati anche gli effetti sonori per renderli tutto più carino, diciamo. È stato aggiunto poi TensorMan, che è un nuovo strumento per la gestione dei TensorFlow Toolchain. C'è un nuovo processo di aggiornamento che viene introdotto con questa versione. Praticamente gli aggiornamenti vengono scaricati ed è possibile instaurare offline quando vogliamo noi. La nostra distribuzione rimarrà alla versione corrente fin quando appunto non andremo nelle impostazioni di sistema e sceglieremo di cliccare sul pulsante per effettuare l'aggiornamento. Diciamo alla Mac OS, per così dire. Altra notizia molto interessante di questa settimana è quella relativa al progetto Bergamot. Che cos'è il progetto Bergamot? Mozilla da diversi anni è al lavoro sull'aggiunta della funzionalità di traduzione automatica in stile Google Chrome. Parte del codice è già presente, ma è disabilitato per impostazione predefinita. Perché? Perché funzionare correttamente la traduzione automatica Mozilla dovrebbe pagare per poter utilizzare le API di Google Translate, di Handex Translate oppure il servizio quello di Microsoft. Per risolvere questo problema Mozilla è in collaborazione con l'Unione Europea che sta finanziando di fatto il progetto con denaro contante e ha il lavoro sul progetto Bergamot che consentirà di aggiungere la traduzione automatica all'altro client all'interno di Firefox senza quindi dover passare per i siti web di terze parti garantendo così quindi agli utenti di preservare la propria privacy. Lo sviluppo del progetto Bergamot è portato avanti sia da Mozilla nella fattispecie Mozilla Germany ma è in collaborazione con diverse università università estoni, dell'Inghilterra, della Scozia della Repubblica cieca. E' attivo questo progetto da gennaio 2019 ed è adesso assegnato il primo traguardo con l'integrazione all'interno di Firefox ed è stato presentato all'Unione Europea questa prima versione. Su Marcosbox trovate un video dove è possibile vedere la traduzione automatica di un articolo dal tedesco all'inglese. Speriamo che questa funzionalità venga introdotta più presto all'interno di Firefox perché questa è una delle gravi mancanze delle cose che tutti quanti soffrono quando fanno il passaggio da Chrome a Firefox cioè la mancanza di un traduttore e speriamo che appunto arrivi nel più breve tempo possibile. Parlando sempre di Firefox questa settimana è stato rilasciato Firefox 70 parola d'ordine di questa edizione è maggior privacy maggior sicurezza e prestazioni migliorate oltre che quello che non guasta mai è anche finalmente una nuova icona che era stata annunciata diversi mesi fa ma che adesso è stata introdotta ufficialmente su Firefox 70. questa nuova versione abilita l'enhanced tracking protection per impostazioni per definita su tutte le piattaforme rendendolo più efficace di fatto la protezione avanzata protegge dai diversi tipi di minacce per esempio il social tracking protection che blocca i cookie di tracciamento di siti come Facebook, Twitter, LinkedIn e quant'altro hanno aggiunto poi il rapporto protezione privacy che praticamente è una pagina dove viene mostrata una panoramica con i dettagli dei tracker che Firefox ha bloccato e ci fornisce un report da Firefox Monitor e LockWiz LockWiz che è lo strumento di gestione del password è stato anche potenziato consente di creare, aggiornare, eliminare accessi e password per la sincronizzazione su tutti i dispositivi viene aggiunto un avviso di violazione integrato da Firefox Monitor quando andiamo a visualizzare un sito che è stato compromesso all'interno di Firefox ci arriva la notifica ci viene mostrato questo piccolo propone che ci avvisa che quel sito è stato compromesso in determinata data e quindi ci invita nel caso a cambiare la password per questioni di sicurezza poi è stato modificato il motore di rendering di Firefox che non è stato ottimizzato è ottimizzato anche sia su Windows per chi ha schede video Intel ma ci sono stati anche miglioramenti per Mac OS oltre a miglioramenti delle prestazioni generali ci sono anche miglioramenti per Mac OS per quanto riguarda il consumo energetico le pagine vengono caricate più velocemente spendendo meno risorse con la riproduzione dei video e quindi consumando meno energia troviamo poi all'interno dell'account utente dei collegamenti rapidi a Firefox Monitor e Firefox Send nel menu laterale è stato aggiunto un'iconcina a forma di pacco regalo che se cliccate sopra vi fa una panoramica delle nuove funzionalità aggiunte che ultima versione quando voi visitate un sito web che utilizza la geolocalizzazione nella barra degli indirizzi viene visualizzato un indicatore e appunto ve l'avevo aggiunciato all'inizio è stata messa una nuova una nuova icona per Firefox ultima notizia della settimana riguarda l'arrivo di Plasma 5.17 per Q.19.10 tramite PPA però se volete aggiornare vi basterà aggiungere il PPA Kubuntu Backports e fare l'aggiornamento del sistema e vi ritroverete Plasma 5.17 e successive minor release mentre vi sto parlando la 5.17.1 che è stata rilasciata ieri di KDE Plasma è già disponibile per KDE Neon invece quindi penso che per Q.19.10 arriverà a breve anche in questo caso bene con questo concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti ci sentiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox e mi raccomando iscrivetevi fate conoscere il podcast e vi ricordo che potete seguirmi praticamente ovunque perché è presente su Apple Podcast Google Podcast Spotify Anchor che è il servizio che ospita il podcast ma anche su Amazon Alexa tramite la skill che vi invito a visualizzare su Marcosbox bene ciao ciao